Quello che vorremmo portare noi come Altenar all'interno di questo convegno è andare un po' a toccare il discorso legato, c'è sempre, da quando ho iniziato a lavorare in questa azienda, in questa industria, c'è sempre stata molto questa parola omni-channel, omni-channel, non omni-channel. Noi pensiamo che il futuro, in realtà, il presente, sia la specializzazione dei vari canali e dell'esperienza d'uso che viene riportata per ognuno di questi, in quanto le platee dei vari canali è poi effettivamente diversa. Quindi, diciamo, l'esperienza internazionale che noi abbiamo operando in diversi mercati, abbiamo circa 30 operatori tra Europa, Sud America e Africa, ci porta a dire che non è così semplice pensarla come un unico canale. In più, io mi ricordo, era già qualche anno fa, quando era uno dei miei primi in ADA, si era già tenuto un panel su cosa fosse l'omni-channel e non credo che da allora siano stati fatti grandi passi in avanti in quel senso. Quindi è interessante oggi trovarci qui tutti insieme a discutere, soprattutto anche con l'esperienza di provider molto radicati sul mercato italiano, per capire quali passi sono stati fatti e come ci si potrà muovere nell'immediato futuro, perché sappiamo benissimo il mercato nel quale andiamo a operare. Non riusciamo a fare una previsione a un anno, figuriamoci a 4 o 5. Diciamo che l'obiettivo di questo panel oggi è quello di far passare un po' un messaggio più positivo del solito, cerchiamo di non piangerci troppo addosso e siamo convinti che ci siano delle opportunità sempre. In realtà noi operando come prodotto di sport e scegliendo di non avere una nostra operation in generale, sia sul mercato italiano che sul mercato internazionale, siamo toccati in parte da questo decreto, però i nostri clienti si trovano a dover gestire questa cosa e sono già alla ricerca di soluzioni. Per come la vediamo noi, dietro delle restrizioni o comunque dietro delle normative ci sono sempre poi delle opportunità, soprattutto per, come è stato detto prima, chi proviene dal fisico, perché se io ho una location, se io ho un punto è difficile che possa essere, diciamo, attaccato dalla concorrenza, a maggior ragione se il concorrente ha difficoltà nell'approcciare i miei giocatori. Quindi per questo sono convinto che ci siano delle grandi opportunità per i medi o piccoli che hanno la possibilità di fare delle promozioni o comunque di promuovere il brand all'interno di determinati circuiti. Quindi le opportunità ci sono, ci saranno, siamo sempre stati in grado in passato di trovare soluzioni, a volte anche un pochino, diciamo, creative, per portare avanti l'industria. Sono convinto che col decreto ci saranno comunque delle opportunità e so, nel caso specifico dei miei clienti, che ci stanno già lavorando e quindi, ripeto, il messaggio deve essere positivo, dobbiamo far passare un messaggio positivo anche perché diversamente non cambierebbe comunque nulla. Quindi abbiamo poco da fare. Per riprendere un attimo uno dei vari punti che è stato discusso prima, sicuramente il modello colombiano è un modello molto interessante. Noi operiamo lì con W Play, quindi siamo abbastanza i leader del mercato in Colombia, in questo momento insieme a Bad Play. Il metodo funziona, in Italia partiamo da un presupposto diverso, tale per cui normativamente non ho già bisogno di avere due licenze per poter operare in maniera omni-channel, se vogliamo chiamarla così. Quindi penso che Peru seguirà il modello colombiano, possiamo poi chiedere a Ludovico se ha qualche news importante sul Brasile che può condividere con noi. Quindi sono convinto che le opportunità ci sono, ci saranno, dobbiamo essere sempre positivi. Ludovico menzionava il Keshout e l'Asian Handicap, siamo già oltre. Basterebbe anche solo introdurre la possibilità di andare a fare un settlement di una scommessa sbagliata, che oggi non è ancora possibile. Venendo dal mercato internazionale ho molti contatti che non aspettano altro che ci sia un errore su uno dei siti italiani per poter trarne vantaggio. Quindi potremmo partire già dalle basi. Esatto, quindi questo è quello che ci tenevo ad aggiungere. In più, noi spesso ci domandiamo ok, cosa dobbiamo fare per migliorare i nostri prodotti, perché per tornare al discorso del decreto di dignità abbiamo veramente la possibilità di spingere sull'innovazione, di spingere sul prodotto. Ci fosse un sistema pochino più flessibile saremmo più contenti. Però, dall'altra parte, abbiamo la possibilità, e condivido al 100% quello che Ludovico ha appena detto, di andare a creare, è importante andare a creare un'esperienza d'uso per il giocatore che decida di scegliere di stare su uno dei nostri siti di scommesse o di casino, piuttosto che passare la serata su Netflix o su Amazon, perché poi è questo quello di cui dobbiamo andare a parlare. E sentivo, non ricordo dove, un interessante spunto tale per cui veniamo spesso, per ovvi motivi, dipinti come i brutti e i cattivi. Ma forse, da un lato è anche meglio così, perché se domani diventiamo i belli e puliti, magari Amazon o Google decidono di creare i loro giochi di casino. E quindi noi, come provider, possiamo andare a fare qualcos'altro. Come è successo? Perché ci sono, porto l'esempio di una software house americana, Rockstar Games, creatori di GTA, dove hanno inaugurato poco tempo fa un casino all'interno del gioco, giocatori tutti con KYC, giocatori già con carte di credito. Al momento si può giocare for fun, quindi tu compri dei crediti con dei soldi veri e giochi, non mai vinciti in denaro. Il giorno che si decide di convertire quella cosa, loro hanno già un database importante che sicuramente andrà a sottrarre revenue a noi. Quindi noi dovremmo fare uno sforzo di concentrarci, di cogliere questa occasione per concentrarci sul prodotto, perché sono loro, sono queste grandi aziende che al momento non operano nel gaming, i nostri possibili concorrenti. Quindi questo è quello che tenevo da aggiungere. E questo spaventa un po' più del decreto di Nira, probabilmente. Sono d'accordo. Assolutamente. Sono d'accordo.